L'ex campionessa olimpica, Laure Manodou, ha annunciato il suo ritiro dal nuoto in un'intervista al quotidiano a Jourdui in Francia, in edicola Oggi. È deciso, mi fermo, non è stata una decisione facile da prendere. Si è imposta a me a poco a poco, non è un colpo di testa, è maturato tutto dolcemente, ha dichiarato la Manodou. 22 anni, diventata campionessa olimpica d'Atene nel 2004 a 17 anni, ha lasciato nel maggio del 2007 il suo allenatore Philippe Lucas, che l'aveva scoperta e sotto gli ordini del quale era diventata la migliore nuotatrice francese di tutti i tempi. La sua carriera di nuotatrice era in sospeso dal gennaio scorso. La voglia non è tornata, oggi ho altri centri di interesse e altre passioni. So soltanto che quando mi alzo al mattino non mi sento pronta ad andare a nuotare, ha detto aggiungendo che la voglia è scomparsa quando ha lasciato Philippe Lucas nel 2007.